Allora, nel video di oggi andiamo finalmente a parlare un po' di custom e andremo a parlare infatti della RTX 3080 MSI Gaming X Trio, ci vuole una vita per dire sto nome, e contro invece la RTX 3080 Asus TUF versione OC. Sono entrambe schede molto molto interessanti e in realtà vi dico che alla fine di questo video capirete che probabilmente la scelta più opportuna è quella fatta col cuore e col portafoglio piuttosto che con effettivamente un motivo specifico derivato da prestazioni o altro, ma ci arriviamo. Ho fatto veramente tanti test quindi se mi seguite avrete veramente l'opinione definitiva su queste due schede e non vi servirà sapere altro oltre quello contenuto in questo video. Partiamo dall'estetica che è assolutamente non la cosa principale con cui la gente compra le componenti. Oh mio Dio è bruttissima, ma funziona benissimo, no è bruttissima, va bene. Per quanto riguarda l'estetica siamo in realtà di fronte a due campioni effettivi. Allora per quanto riguarda la Gaming X Trio un design un po' più aggressivo, con più RGB ed è anche un po' più corpulenta. Invece per quanto riguarda la Taffo C un design un po' più elegante, minimale, un po' più solenne, che entrambe quindi hanno il loro punto di favore in determinate build, il loro punto di svantaggio in altre, quindi diciamo che qui, come ho detto, si va col cuore. Quella che vi piace di più dal punto di vista estetico, prendetela. Se dovete valutare soltanto questo campo, ovviamente. C'è a dire una cosa, la Gaming X Trio viene commercializzata come una scheda con un backplate in grafene e questa cosa dovrebbe avere anche dei tecnicamente, come ho detto da me sai, vantaggi dal punto di vista della dissipazione. Tuttavia vi dico che in realtà il backplate è grafene misto plastica, ma principalmente plastica e questo lo noterete anche se toccate la scheda al tatto, effettivamente il backplate è fatto di plastica. Dentro c'è una parte di grafene, ma per arrivarci e anche per avere dei vantaggi tecnicamente termici, per quanto il grafene non abbia questi grandissimi vantaggi, effettivamente è solo un costo extra che non ha grandi utilità, quindi perde ogni possibile vantaggio anche solamente estetico. Per quanto riguarda l'alimentazione, siamo di fronte a due 8 pin sulla TUF OC e una 3 8 pin invece sulla Gaming X Trio. Per quanto riguarda le frequenze utilizzate, questo calcolato post patch, la Gaming X Trio utilizza delle frequenze tra i 1995 MHz e i 2025 MHz, con un picco possibile di 2055 MHz, ma che tuttavia non ha un riscontro reale quando si entra in gioco, soltanto nei menu principalmente. Per quanto riguarda la TUF OC invece abbiamo due versioni, infatti con il BIOS Performance 1890 MHz di minima e 1935 MHz di massima, e invece con la versione Quiet BIOS semplicemente si riduce di pochi MHz con 1885 MHz di minimo e 1920 MHz di massima. Semplicemente la versione Quiet BIOS e Performance BIOS differiscono di circa 15 MHz di media e quindi non c'è una grande differenza. So che molti di voi mi hanno sentito dire nel video in cui analizzavo le differenze pre-post patch della Gaming X Trio che questa non cala sotto i 2000 MHz, tuttavia è normale che in certe situazioni la frequenza si riduca perché non è richiesta una certa tipologia di operazione alla scheda, pertanto è normale che scenda sotto i 2000 MHz, tuttavia quello che si è voluto esprimere in quel video è che effettivamente la scheda lavora tranquillamente sopra i 2000 MHz e che la patch non è stata abbassare sotto i 2000 MHz per risolvere il problema dei crash, ma semplicemente mettere dei driver più stabili che sostenessero il carico anche sopra i 2000 MHz senza addossare la colpa ai condensatori che invece lavorano bene. Per quanto riguarda il piano prestazionale, fuori dai test sintetici non ho notato una grande differenza tra la Gaming X Trio e la TUF OC, effettivamente c'è una differenza di 1 FPS ma quando si parla di centinaia di FPS già buttati fuori, quindi effettivamente niente di che, niente di particolare, potete andare col cuore anche qui, veramente l'unica differenza l'ho notata quando si parla di test sintetici come per esempio Time Spy e Time Spy Extreme, dove effettivamente c'è qualche punto di differenza, probabilmente perché scala molto molto bene sulla frequenza come tipologia di test, ma nel real world, nel mondo reale con i giochi non ho notato assolutamente differenze. L'ho ripetuto molte volte in maniera che fosse ben chiaro. Per quanto riguarda invece le temperature e la pressione acustica abbiamo delle differenze che probabilmente vi faranno decidere per una scheda o per l'altra, ma comunque non stiamo parlando di differenze grandissime. Ho fatto dei test dove andavo a misurare la pressione acustica e effettivamente le temperature a parità di RPM. Il primo test che ho voluto fare è stato quello dei 1000 RPM, perché ho notato che questa è la minima soglia operativa in termini di rotazioni per minuto delle ventole quando si parla di piccoli carichi. Entrambe le schede partono più o meno da queste rotazioni e con 1000 RPM potete notare che la prestazione è abbastanza simile, con 82 gradi sulla TAF OC e 83 invece sulla Gaming X Trio. Salendo un pochettino con gli RPM a 1500 ho notato delle anomalie a favore della TAF, dove questa andava a scalare di ben 5 gradi nei confronti della Gaming X Trio, tuttavia confrontando poi i miei dati con quelli di altri recensori ho avuto modo di capire che forse la mia era semplicemente un'anomalia dovuta a qualcosa di strano e non un dato concreto ed effettivamente anche qui potete notare che la differenza sostanziale reale non è effettivamente tanta. Parliamo sempre di 1 o 2 gradi. Per quanto riguarda invece i 2000 RPM che è diciamo un po' il limite entro il quale si esprimono le ventole se non toccate mediante curve personalizzate con MS Afterburner o programmi preferiti, effettivamente potete notare che anche qui la differenza in termini di temperature è di pochi gradi. Dal punto di vista della pressione acustica c'è una differenza a favore della TAF OC che si esprime soprattutto quando le ventole iniziano a girare particolarmente tanto, per esempio a 2000 RPM. Tuttavia qui voglio fare una differenziazione. Come ho detto la TAF OC Go D2 BIOS, una versione performance e una versione quiet BIOS. Per quanto riguarda la differenza tra questi due BIOS effettivamente è nell'utilizzo più o meno aggressivo delle ventole. Infatti quando si imposta la versione performance del BIOS si avranno delle ventole che girano a circa 1900 RPM, mentre nella versione quiet a circa 1350, andando quindi a differire in termini di pressione acustica generata. Detto questo è importante sottolineare che invece la Gaming X Trio in real world, cioè senza andare a impostare noi la curva, rimane circa sui 1350 RPM, fornendo sì delle temperature più alte per quanto riguarda il risultato finale, cioè di sì un po' di meno, però effettivamente fa meno rumore se va a utilizzare la propria curva che si allinea in termini di rumore a quella del quiet BIOS. Diciamo che sotto questo punto di vista le schede si assomigliano parecchio, però la TAF-C è un chiaro vincitore, soprattutto quando gli RPM iniziano a salire verso i 2000, che è il range operativo massimo naturale di entrambe le schede, e quindi diciamo che qui la TAF prende più punti. Allora ragazzi, le due schede le abbiamo viste, le prestazioni le abbiamo constatate e ovviamente la parola finale io la lascio a voi, vi dico soltanto delle constatazioni da utente diretto di queste schede e da persona interessata comunque a comprare una 3080. In questo caso chiaramente mancano molti modelli, mancano le PNY, mancano le Gigabyte, le Aorus Gigabyte, insomma veramente tanti tanti modelli non sono rientrati in questa sfida che era un bipolio, perché purtroppo in Italia stanno girando pochissimi sample anche per il fatto che voi stessi non possiate comprare queste schede. Io faccio questi video semplicemente per aiutarvi nel momento in cui queste saranno disponibili. Quindi spero che se stai guardando questo video tu possa comprare una 3080 in questo momento, spero per te e per il mercato in generale, oppure non so, altre scelte, Big Navi, vedi tu. Allora in questo caso vi andrò a elencare soltanto i prezzi di listino delle due schede, perché effettivamente offerte a altro, cali, warehouse deals, insomma ci sono tanti modi di accedere a dei prezzi inferiori sui prodotti, come per esempio il mio canale Telegram delle offerte che trovate giù in descrizione. Tuttavia diciamo che i prezzi di listino sono questi. Per la RTX 3080 Gaming X Trio abbiamo 929€ nel momento in cui questo video sta venendo registrato, ovvero ottobre. Per la TAF RTX 3080 OC abbiamo 899,99€, quindi 900€ tondi. E per la RTX 3080 TAF non OC invece 865€. Visti i prezzi, viste le prestazioni, lascio a voi la scelta definitiva. Ovviamente andate col cuore e col portafoglio, anche in base al momento in cui state guardando questo video. Magari le prestazioni sono ancora valide, ma i prezzi sono cambiati. Insomma, vedete voi. Insomma ragazzi io per questo video vi ho detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati con me, voi siete stati su Mordentech e ci vediamo al prossimo video e soprattutto quando avrò altre custom da poter comparare a queste in maniera da darvi lo spettro più completo possibile per l'acquisto più intelligente e mirato alle vostre esigenze. Salamusa!